Un caro saluto e grazie di essere su Canal 104 Plus. Suggerisco i video che non si possono pubblicare sulle piattaforme del sistema, ma ricordo che potete vedere questi fantastici lavori attraverso il prezioso indice alfabetico, come il disperato piano fallimentare per il nuovo secolo, dove Bush parla dell'instaurazione del nuovo ordine mondiale. Lo studio Pfizer, dove ho scoperto il documento degli studi sul siero nel quale si leggono cose molto interessanti, oppure morti in eccesso nel Regno Unito per informarsi delle informazioni che non vengono diffuse dai mainstream. Trovate anche CDC, Biden, YouTube e Google hanno celato le prime cause avverse e altri titoli che leggete in basso come questo per risalire al video attraverso la pagina di Indice Alfabetico con link nella descrizione sotto. Interessante è anche la traduzione della Deputata Green lancia appello contro OMS e scie chimiche, oppure la regola del distanziamento sociale di sei piedi, oppure questo video del 12 gennaio 2024 trovate anche la malattia X scoprire cosa è successo ai leader che non hanno accettato le imposizioni e non perdetevi cuore umano misterioso perché scoprite veramente una cosa straordinaria che smantella il credo nella scienza medica. Non vedete questi video che sono veramente importanti perché vi stanno distraendo con le news sempre più incalzanti ma che non hanno alcuna vera importanza. Vi stanno distraendo col credo della religione, con la paura delle guerre e intanto il piano malefico avanza sul mondo intero sopra le nostre teste. Quello che state vedendo è datato 7 febbraio 2024 ed è il cielo nella Svezia settentrionale postato dal canale Brighton Nordbottenkung dove ci racconta che la volta celeste non è per niente pulita come è stata negli scorsi decenni. tutto il lungo giorno va avanti così non c'è più nessun cielo blu tutto il cielo è sporco sempre non può essere naturale esista un fosco colore pastello e succede sempre anche in estate da troppo tempo è troppo sporco ed è utile farvi vedere cosa succede là perché è esattamente quello che sta succedendo ovunque nel mondo popolato e il sole è sempre per tutto il giorno dietro ad un velo c'è sempre qualcosa davanti al sole questo è certo ricordo il secondo canale YouTube il prezioso indice alfabetico il libro Il Risveglio e Canal 104 Plus Telegram e ma solo se vi va potete sostenere Canal 104 Plus con l'energia monetaria del semplice valore di una buona tazzina di caffè grazie di aver guardato